Vado? Ciao gente, sono Kilo. Per gli amici, il migliore. Non sapevo avessi altri amici oltre a noi. Non sapevo avessi altri amici oltre a noi. Stavo dicendo. Ho trovato in terra questo tel... Telefono! Telefono, bravo Pip. Dicevo. Volevo creare questo profilo per aiutare ognuno di voi. Sì, tu che stai guardando. Quando ti senti solo, incompreso, senza senso d'esistere, quale rimedio se non la mia immensitudine? Parla lì dei benefici delle poide. Ma non ti tempo so qui, Pisto. Discozzo, cecchino! Non giuro su Hitler! Che un giorno possa risorgere buonanima! E' evidentemente stai dicendo dell'assurdità, Pisto. Le labi sono bandite dai mitagiochi. Ah, lui si stava parlando di cose importanti. Il mio diritto è il mio diritto è il mio diritto è il mio diritto è il mio diritto. PIP! Tu devi parlarmi solo quando stai zitto! Vieni qui! Ma i degreti sono importanti! Adesso! Idioti. Te la fono, bravo Pip! Dicevo, volevo creare questo profilo per aiutare ognuno di voi. Tu che stai guardando, quando ti senti solo, incompreso, senza senso d'esistere, quale rimedio se non la mia immensitudine? Sola in un tuore! Ogini va ovviamente perchéamed Väpitare il tiene un caso! la pittare il șimate Zoom!